salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi siamo al cross village di roma con la mugen trasformata in elettrico che succede di abbiamo cambiato piastra di servi e ricevente che qua c'è stata quella l'unica sulla nitro motore il supporto del preferenziale centrale supporto batteria ecco qua tutto il modello adesso andiamo a fare subito un po di giri e vediamo come va un po' Oh, 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 oh. Timer impostato e via. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Grazie a tutti. Ma se abbiamo fatto la prima scarica e già i tempi due secondi più veloci rispetto allo scoppio 39,8 abbiamo fatto 39,8 noi facciamo un'altra po' di scariche e vediamo come si evolve e vediamo a no vero che si è usato a scoperto a scoperto a scoperto a scoperto a scoperto a scoperto Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro salvatore www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Allora ragazzi abbiamo cambiato le gomme Ma si dai una tutata, gli dai e via Tanto voglio aggirare Cambiamo le gomme, abbiamo messo le Jetco J0 Super Soft e noi vediamo Come si comportano Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.